da mercoledì 16 dicembre 2009 presso la nuova biblioteca comunale luigi fumi di orvieto è possibile visitare la mostra di arti visivi di donato catamo dal titolo orvieto segni e campi colorati aperta fino al 16 gennaio 2010 un viaggio nell'essenza più profonda della città di tufo come ci spiega proprio il professor catamo grazie a tutti 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 grazie a tutti